eh ragazzi scusate ma per caso l'avete vista anche voi? cioè non lo so sto mega cazzo no ragazzi scusate era quello? eh ciao ma adesso è quello del compleanno come no? ti ho visto? no come no? guarda è un deconoso sto cazzo ma va fai no non che è veramente marco sto cazzo scusa sapete cosa significa what in inglese? no ma è what? eh non sai che significa? no è quasi quasi ah di? ah figlio ciao conosce Andrea? no ma ha detto di si? è famoso? ma ha detto di si? cioè doveva anche venire questa sera qui? faceva gli autografi? no non so è strano che non so ma se è possibile ma ho detto va a farlo con loro perché dai di di chi? dillo io sto cazzo scusate basta sto cazzo siete in due? sì scusa ma ce l'avete tolta dal menù? cosa? sto cazzo no perché noi volevo sapere se c'era perché comunque a noi piace così cosa? che vi piace così? sì questo cazzo cioè non so se c'era senti ma dovete mangiare o dovete prendere in giro? se no vede andate eh? no no vogliamo solo sapere se c'era bella andate 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 addio e confe scusa posso apprestarmelo? posso apprestarmelo? sto cazzo sto cazzo è difficile fare tutte cagate perchè non quando deve stata quella cosa parece questo cazzo questo cazzo non sa me che cosa è questo e questo è il cinema le fornage no quello là ma che è successo? vabbè su tranquillo non lo so ma volevamo sapere qual era la canzone dove si chiamava vabbè grazie ma hanno detto di dirtelo a me adriano quello là mi ha detto lo sa questa ragazza qua fuori non lo so scusate stiamo facendo un esperimento per vedere come reagiscono le persone anche abbastanza scientifico potete dire un attimo cosa? dipende non ho capito proprio no è un esperimento diciamo per vedere come reagiscono le persone a determinate parole o eventi e dipende quindi per scoprirlo potete dire un attimo cosa? che cosa? sto cazzo ok perfetto io come sto reagito ti appena le hai detto lui è suscitato in te in senso di rabbia vorresti aggredirlo? no vorresti trombarlo? ma anche no va bene cioè assolutamente scusate guarda un amico mio che la conosce no? guarda quell'amico mio là e ora non so se ti è andato e ora non so se ti è andato si e sta là non so ragazzi ti è andato speriamo provare a chiamare va bene o no? e poi va bene come no? no spurni spurni però va bene falsi siamo introvvisi SAMO improvvisi SAMO vi siamo dai a te di conosce mi sembro no no ti conosce top top sono a tenere questi telefoni aspetta un attimo allora all'iniziamo tutto no ragazzi sinceramente se io dicessi top top come no? come no? tu che fai? chi è? sto cazzo un applauso ragazzi ma che ne dite se cambiamo sesso? facciamone qualche mask alfa sto cazzo non so se ve l'hanno detto no 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 perché volevo sapere se cosa scusa ma l'avete visto? sto cazzo ci sta non l'avevo visto l'abbiamo chiesto voi scusi mi scusi ma lei l'ha preso? come? non so se le hanno detto ma lei l'ha preso? non so se voi l'avevate preso cosa? eeeh sto cazzo ah eh sì come no uno lungo così guarda che? ce ne stavo domandando che fa? quello è il principio ma poi c'è il video su youtube io ti posso anche non stare per private eh ma 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 quello ci già ci siamo abbiamo fatto che cosa? questo cazzo bene ragazzi siamo giunti alla fine del video se il video vi è piaciuto lasciate 52 like ecco state che mi stavo anche facendo amminare da un vecchietto se questa tua parte vi piace fatecelo sapere nei commenti ne faremo uno sto cazzo due tra la gente per qualche settimana però eh qualche mese e adesso cambiamo ma cosa dici se siete arrivati a questa parte del video commentate con sto mega cazzo Marlena Lorenza oh ma queste cazzo di diette mi devo un attimo spesata ma anche tu cosa è successo cazzo cazzo io lo so il medio del ricompiamento senale dai ricompone adesso adesso mi concentro 3 2 3 2 ah 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 come ti senti? mi senti donna ci hanno un attimo come fanno tutte quante tanto ah 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 io direi che il video può terminare qui ciao ciao Ok, perfetto Adesso questa parte non la vedrà nessuno Non Ehi 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 Ehi